Weee! Non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIODER e ragazzi quante novità delle ultime 24 ore relative ai prossimi giorni di Fortnite ragazzi! Nel video di oggi si parlerà del pack PlayStation Plus gratis! Quello in poche parole ragazzi che sarà disponibile da oggi per tutti gli utenti in Italia! Da ieri era pronto in Nuova Zelanda, ha fatto il giro del mondo e anche oggi potrete riscattarlo! Lo andremo a vedere insieme ma grandi novità anche per quello che riguarda il mostro nel mare! Andremo un po' più da vicino a vedere quello che è successo nella notte di ieri in mezzo al mare proprio a bordo MAPPA! Molti lo sanno, alcuni non l'hanno visto ma delle immagini e un gameplay molto intrigante ci lascerà un po' col fiato sospeso! E poi nuove notizie sulla LTM Orda Zombie! Abbiamo descrizioni, abbiamo messaggi, abbiamo oggetti nuovi e anche sfide nuove per le ricompense che potreste prendere qualora le completaste! Voglio prima però ringraziare tutti quelli che utilizzano il mio codice creator XIUDERONE! Grazie di cuore per supportarmi nello shop, mi raccomando non dimenticate di iscrivervi al channel e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live! Ma prima è la domandina della... ve la devo fare! Dai ci tengo tantissimo ai vostri commenti qua sotto ragazzi! Domanda molto personale, molto interessante! Ma qual è il tuo deltaplano preferito? Dai raga ce ne sono tantissimi! Il tuo preferito, quello che lo metteresti proprio sempre a profusione! Qual è? Il mio è il Beer Force One, uno dei veramente deltaplani più belli, mi ha colpito e tuttora è il mio preferito, quello del set di Pietro, il Love Ranger! Ma quindi, ciancio alle bande! E bando alle ciance! Si va, si va, si va e l'immagine, eccola qua ragazzi! Una bellissima zoomata su quello che è accaduto in mezzo al mare! Come si vede, il castello di Picco Polare è assolutamente intatto ed emerge dalle acque per qualche secondo per poi riimmergervi! Voglio farvi vedere direttamente il gameplay ragazzi che è meraviglioso! Eh! Che cavolo è? Che è veramente, veramente meraviglioso ragazzi! Un gameplay che ci fa vedere come in realtà non si capisce! Fatemi trovare un attimo, maledizione con il computer nuovo, è tutto un casino! Bellissimo, tutto blu raga! Come si dice ragazzi, in realtà, in realtà non si è capito bene se quello che tiene il castello sia un mostro oppure no! Lo andiamo a vedere, guardate che cosa succede! Succede, siamo proprio in mezzo al mare ragazzi ed emerge! Bellissima questa inquadratura, anche in alta definizione al meglio che si poteva fare! Mi sposto io ragazzi, mi sposto io così la vedete meglio, guardate che roba! Castello che per una manciata di secondi rimane fuori dalle acque! E immaginate ragazzi quanto deve essere enorme la cosa che c'è sotto! Cioè il castello di picco polare ragazzi era molto molto grande! Soprattutto alto, quindi adesso guardate quando lo zoom si chiude ragazzi, qua si rimmerge nell'acqua uno sprazzo ragazzi! Guardate la zoomata violentissima! Cioè era a migliaia di chilometri dalla spiaggia ragazzi! Quindi la domanda giustamente che ci poniamo è Ma a questo punto, che diamine è quello che muove il castello? Il leviatano gigante? Il mostro di picco? Non lo sappiamo, purtroppo però ragazzi! Andando a vedere nei file di gioco, eccolo qua! Il castello, come si vede, non è ancora presente la figura del mostro! Semplicemente questo è il render dentro i codici sorgenti del castello! E come vedete sotto c'è solamente l'isola! Staremo a vedere appena lo aggiungeranno, mi sa con qualche aggiornamento che devono fare oggi o domani Un aggiornamento della patch 9.20 Ma andiamo avanti ragazzi ed eccolo qua invece il pack per possessori di PS Plus Come vedete in realtà questa è un'immagine dimostrativa Quella che c'è nell'icona tra l'altro dello store dove si vedono le tre skin Disponibili solo per quelli che hanno il PS Plus Il pack invece in questione contiene il deltaplano coaxial blu La scia Blue Fusion e una schermata di caricamento ragazzi Ho le immagini del deltaplano che è praticamente uguale all'elicottero coaxiale nero Quello già presente in game e della scia che è davvero molto molto bella Perché è caratteristica ovviamente del PS Plus Quindi da oggi potrete riscattarlo nello shop, nello store di PlayStation Totalmente in maniera gratuita Ecco qua ragazzi invece la immagine relativa appunto alla Nuova Zelanda Come vedete in alto release date 11 giugno 2019 Ma andiamo avanti ragazzi e altre novità invece per quanto riguarda la modalità Orda Una modalità che secondo me sarà molto intrigante come già vi avevo anticipato Si aggiunge una sfida questa dove dobbiamo vincere con il nostro team una partita con almeno 200.000 punti Come vedete ragazzi ci sono una marea di punti esperienza guadagnabili con il completamente delle sfide Ma ovviamente oltre a quelli anche dei premi Una copertura per armi e veicoli esclusiva della modalità E in alto invece la schermata di caricamento che ci servirà come ricordo per questa nuova LTM Che sicuramente ci farà divertire in quanto meno invasiva Abbiamo invece anche dei messaggi ragazzi Questi sono i messaggi che appariranno in basso alla descrizione quando stiamo entrando in game Ne leggiamo uno tipo Uccidendo i nemici bianchi otterrete più velocità Questo è molto comodo quando dovete scappare da un'orda molto massiccia Per esempio ne leggiamo un altro che dice Picking up a score multiplier will eliminate nerby enemies Prendendo un moltiplicatore di punti Vi permetterà anche di killare i nemici in prossimità Quindi quelli molto vicini Ma la cosa curiosa a parte la descrizione invece della modalità che dice Gli amici di Fortnite I vostri amici sono tornati nell'isola di Fortnite Sono molto più arrabbiati che mai Quindi combattili insieme ai tuoi compagni di squadra Per aumentare il tuo punteggio Cercando, trovando i moltiplicatori di punteggio nascosti Aprendo speciali chest E eliminando un bel po' più mostri possibili Più mostri che puoi in poche parole ragazzi Bisogna attraversare la mappa che sarà modificata leggermente Sembrerebbe e adattata a questa modalità Dove si giocherà solamente in quattro Quindi team da quattro Senza nemici che non siano bot del computer Ma abbiamo anche due immagini interessantissime Di oggetti che potrebbero tranquillamente essere i moltiplicatori Questo speciale bastone ragazzi Che ha all'estremità una specie di parabola E che potrebbe tranquillamente essere usato Per killare nemici Non lo so ragazzi Sinceramente l'hanno trovato da poche ore Quindi non saprei darvi una spiegazione migliore E abbiamo invece un oggetto che già vi avevo mostrato qualche giorno fa La prima volta che abbiamo parlato dell'orda Della modalità orda Ma non in alta definizione Invece questa è l'immagine finale Probabilmente aggiornata nelle ultime ore E dovrebbe essere proprio uno dei moltiplicatori Credo che il colore in realtà vada inteso anche diverso Quindi bianco, arancio, verde, viola Insomma ragazzi Tante novità anche per quanto sta per arrivare nei prossimi giorni di Fortnite Io vi ringrazio tantissimo per avere guardato anche questo video news Mi raccomando Un bel pollicione in su Iscrivetevi al canale Noi ci vediamo in live verso le 8 e un quarto 8 e mezza Ciao Ciao